Ora si siede, dritto, dritto, eccolo là, vai già a passare di pressione, non far entrare la gamba in mezzo, strizza le gambe, strizza le ginocchia tra di loro, bravo, pressione e incrocia col ginocchio destro, nuovo, peso, peso, strizza le gambe, strizza le gambe perché cerca sempre la X, peso, strizza le gambe, eccolo là, eccolo là, eccolo là, bravo, guarda il braccio, senza fretta, senza fretta Ale, mantieni la posizione, rimani sempre lì senza fretta Ale, tutto il tempo lì. Non avere fretta, nuovo l'isola al braccio, bravo, c'hai anche la schiena, quando gira la schiena e ti ganchi, 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 bravo, che l'hai Ale, portalo verso destra, portalo a destra, cambia il lato Ale se puoi, se no ritorna su, ritorna su, Mani dietro proprio a sinistica! Va bene, va bene. Non ti fare mai isolare il braccio, sempre dritto e braccia chiusa. Grazie a tutti. Tira via il braccio, strizza le gambe, strizza le gambe, eccola là, stai su, stai su, stai su, anche testa e braccia se vuoi. Con calma, con calma, con calma, strizza le ginocchia, strizza le ginocchia, bravo, stringi le ginocchia. Leva il piede dal bacino. Stringi le ginocchia, stringi le ginocchia. Sempre a meno un piede fuori, tienili sempre un piede fuori. Tienili sempre un piede fuori. Arranci sempre un piede con la mano sinistra. Bravo. Quando vuoi, quando? C'è sempre un piede. Dritto, 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 bravo. Sonia non siええe. Chiara basso e costa addivisa. Guarda il pianuno. Sera più alt hoghi. F feminino... Fa guardare il tempo. Non preoccupare. Continua lì si accoltola botti. Veo quello che è in modo buono anche per lei chighiantino, se ti tiene la testa lì. Rallenza un po' la lontane, rallenza un po' la lontane 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 Prima cerca il polso e dopo la seconda mano Un minuto a venti, Matteo! Un minuto a venti, Matteo! Un minuto a venti, Matteo! Un minuto a venti! Comincia a toccare il forzo, Ale! Bravo, bravo! Bravo, bravo! Se vuoi puoi andare anche per la schiena! Se vuoi puoi andare anche per la schiena! Se vuoi puoi andare anche per la schiena! Puoi prendere un'altra penalità! Prendi un'altra penalità! Adesso a perdere! Ora poi girare via! Ora poi girare via! Fabio! Fabio! Andiamo! Bravo! Vieni! 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 Vieni!